Si dice che ognuno di noi abbia un sosia nel mondo, a me ad esempio dicono che assomiglio a Linda Carter un pochino, la storica Wonder Woman Magari Walk up is Mulders di How I Met Your Mother Ecco, loro mi fa molto piacere, devo dire, però c'è anche chi nei miei video, nei commenti ai miei video fa notare la somiglianza a un altro tipo di personaggio, ma insomma sorvoliamo, meglio Ma che dire quando questi sosia sono personaggi animati dai film Disney? Ecco allora alcune celebrità che somigliano a personaggi Disney, siete curiosi? Allora partiamo con Lily Cole, con la sua chioma di capelli rossi e bellissimi occhi azzurri sembra la perfetta versione umana di Merida, l'eroina di Brave, no? Chris Colfrey invece, noto per il suo ruolo in Glee, sarebbe perfetto per il ruolo di Pinocchio Notate una certa somiglianza? In un'intervista l'attore ha persino dichiarato Mi piacerebbe proprio interpretare Pinocchio se la Disney dovesse mai farlo a Broadway, chissà Poi c'è Amanda Seyfried, che con i suoi grandi occhi verdi e lunghi capelli biondi è l'incarnazione precisa della principessa Rapunzel, siete d'accordo? Isla Fisher, moglie del comico Sacha Baron Cohen, nota anche lei per le sue divertentissime interpretazioni nei film come I Love Shopping e Il Grande Gatsby, sarebbe perfetta anche nel ruolo di Ariel, della sirenetta soprattutto per il suo sguardo tanto dolce Poi c'è Hugh Laurie, noto per aver interpretato Dr. House Recentemente l'abbiamo visto sul piccolo schermo accanto a Tom Hiddleston nella serie The Night Manager, dove interpreta uno spietato criminale cattivo proprio come il suo sosio a Disney, Scar, del Re Leone Non è solo la sua voce profonda e minacciosa, ma anche la sua capigliatura, i suoi occhi e il suo atteggiamento ambiguo verso il mondo Bene, nella descrizione di questo video trovate il link all'articolo completo con altre star che assomigliano ai personaggi Disney quindi se vi è piaciuto questo video approfondite e noi ci rivediamo prestissimo Ciao a tutti da Valeria Ciao a tutti Ciao a tutti